Ciao amiche ed amici, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi parleremo di una delle festività più importanti per il cristianesimo, ma non solo, e lo faremo dando risposta a queste domande. Qual è il significato più profondo della Pasqua? Come si è evoluta nel tempo? Cosa rappresenta oggi? Il significato più profondo della Pasqua varia a seconda delle prospettive religiose, culturali e personali. In generale la Pasqua è principalmente una festa cristiana che commemora la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, come descritto nel Nuovo Testamento della Bibbia. È considerato l'evento più importante del cristianesimo, poiché significa la vittoria sul peccato e sulla morte e offre la promessa della vita eterna per i credenti. Nel corso del tempo la Pasqua si è evoluta e ha incorporato varie tradizioni e usanze provenienti da diverse culture e religioni. Ad esempio alcuni dei simboli associati alla Pasqua, come uova e coniglietti, hanno radici nelle feste primaverili pagane che celebrano la fertilità e il rinnovamento. Man mano che il cristianesimo si diffuse e si fuse con le usanze locali, questi simboli si intrecciarono con l'osservanza religiosa della Pasqua. Oggi la Pasqua rappresenta cose diverse per persone diverse. Per i cristiani rimane una festa profondamente religiosa, incentrata sulla risurrezione di Gesù Cristo e sulla speranza che essa porta. È un momento di riflessione, pentimento e rinnovamento della fede. Per altri la Pasqua potrebbe essere più secolare, concentrandosi su riunioni di famiglia, caccia alle uova di Pasqua e godersi la festività primaverile. Inoltre la Pasqua è diventata un momento di significato culturale al di là delle sue origini religiose. Segna spesso l'inizio della primavera in molte parti del mondo ed è associato a temi di rinascita, crescita e nuovi inizi. Serve a ricordare la natura ciclica della vita e l'opportunità di trasformazione e rinnovamento personale. Nel complesso il significato della Pasqua si è evoluto nel tempo fino a comprendere una miscela di elementi religiosi, culturali e simbolici. Continua ad avere un significato per milioni di persone in tutto il mondo, sia come osservanza religiosa che come celebrazione della vita e del rinnovamento. Anche per oggi siamo arrivati alla fine. Lasciatevi trasportare dalla potenza del significato di questa festività, a prescindere dalla vera o meno fede. Il profondo e il mito al cambiamento, alla trasformazione ci esorta a non avere paura di ricominciare e a non mettere limiti alla nostra crescita personale. Quello che la natura ci dà sotto forma di opportunità è sempre una benedizione e non andrebbe sprecato. Ricorda di mettere un like, lasciare un commento ed iscriverti al canale se non l'ha già fatto. Ciao amiche ed amici e al prossimo video. Buona rinascita a tutti.